un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo oggi qui nella sacristia della chiesetta antica di san giovanni rotondo per raccontarvi di qualcosa di particolare di strano di straordinario che accadeva in san pio ed è proprio padre più capuano con padre pio come in una fiaba tra sogno e realtà che affronta questo argomento tra i tanti carismi tanti doni ricevuti da padre pio c'era quello dell'osmogenesi ovvero racconta padre pio capuano il dono del profumo una caratteristica tipica che lo spirito santo concede ad alcuna persona affinché dal corpo si sprigioni un buon odore interpretato così da molti come un segno delle loro particolari virtù ebbene lui racconta tra diversi aneddoti ed episodi un racconto che è accaduto direttamente proprio padre pio capuano che era qui nel 1978 con padre pietro tartaglia ex ministro provinciale che defunto in africa infatti e lì è sepolto presso il convento di bebe già insieme a padre pietro tartaglia racconta che doveva padre pio capuano portare una reliquia di padre pio a al provinciale di monaco di baviera padre cosmos viewer per il convento dove lui era stato inviato per studiare tedesco e nel momento in cui andarono ad aprire questo cassetto pieno di reliquia e quindi c'era questo fazzoletto di padre pio insieme proprio entrambi quindi siamo nel 1978 dieci anni dopo la morte di padre pio sentirono un forte profumo che gli inebrio tutti ma da qui altri racconti racconti legati a questo profumo che padre pio emanava veniva percepito a distanza e potremmo dire viene ancora oggi per il percepito a distanza centinaia centinaia di migliaia di chilometri lontano da san giovanni rotondo oltro oceano in circostanze di solito legate alla sua persona alcune volte invadeva il singolo oppure un gruppo di persone a ondate come un vento acuto sottile possente leggero si dileguava presto o era persistente penetrante addirittura qui racconto proprio di fra modestino fucci che mentre serviva proprio la messa padre pio lo avvertiva in una maniera così forte che se si sentì venir meno e proprio lui durante la celebrazione chiese mentalmente a padre pio che stava celebrando in quel momento la santa messa di evitargli questo profumo perché stava per svenire stava per perdere i sensi quando era in vita padre pio spesso accadeva che qualcuno venisse toccato ad esempio il corpo ovvero la testa la spalla una mano ecco padre pio quando toccava ecco i suoi figli spirituali racconta padre pio capuano che quel profumo rimaneva fino quasi alla alla finalizzazione e a quando alla conclusione di un determinato compito che aveva questa persona per esempio fare penitenza o essere accompagnato in un viaggio un'operazione o persino fino alla guarigione questo profumo di padre pio permaneva ancora il profumo che saliva sale dal petto al naso sempre con lo stesso odore o ancora qualche volta veniva e viene a mancare nonostante l'auto suggestione non si ottiene nulla tuttavia scrive padre pio capuano quando uno meno se lo aspetta ecco che si manifesta e si manifesta ancora come a lui racconta in un paio di occasioni cadute proprio nella sua vita la morte del papa e della sua penultima operazione in casa sollievo della della sofferenza lui racconta che personalmente è stato inondato di un profumo di rose che gli ha poi dato una certa tranquillità una dolcezza nella sua anima e poi è scomparso tutto ovvero finito il compito finisce il profumo